Per il terzo appuntamento parliamo sostanzialmente di come sviluppare nuovi servizi pubblici in modalità open source. Abbiamo tre comunicazioni oggi, come avete potuto vedere dal programma, vi dico che sono Leonardo Favario del Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Daniera Pascale e Guido Pera, che fanno parte del centro di competenza, riuso e open source di Agid. Vi ricordo che questo è il terzo di un ciclo di quattro webinar e che per avere l'attestato di frequenza che vi rilascerà Agid bisogna partecipare ad almeno tre webinar su quattro e questo è un ciclo di webinar che ha caratteristiche di corso pilota, quindi vi chiediamo di darci anche dei ritorni rispetto ai temi che vengono trattati, sia rispetto al livello di approfondimento, sia rispetto all'utilità che voi pensate abbiano rispetto alla vostra attività di lavoro. Vi ricordo che il coordinatore didattico scientifico di questo ciclo di webinar è Michela Gabrielli, che è referente della comunicazione al Dipartimento della Trasformazione Digitale e vedo che siete entrati diciamo abbastanza numerosi, quindi probabilmente possiamo dare il via alle comunicazioni. Alla fine di ogni comunicazione l'esperto avrà a disposizione circa dieci minuti per rispondere alle domande che voi porrete nella chat, quindi verranno evidenziate da noi ai singoli esperti e quando avete domande le scrivete nella chat per tutti. Io vi ringrazio e lascerei la parola a Leonardo Favario, a cui prego di attivare webcam e microfono. Vediamo se ti sentiamo Leonardo. Prova, eccomi. Sì, ci sei, quindi io scompaio, va bene. Grazie mille Patrizia e grazie a tutti per la partecipazione. Quest'oggi, come già introdotto brevemente, parleremo essenzialmente di servizi pubblici sviluppati in modalità open source. Quindi apro io le danze parlandovi a grandi linee di open source e di che cosa si cela dietro questo termine che va di modo ultimamente anche abbastanza inflazionato. Vediamo di capire le modalità, le interazioni con le varie community, con i vari elementi nazionali e internazionali di questo ecosistema e poi andremo a vedere anche il punto di raccordo con, da una parte, la normativa vigente che sarà trattata appunto dai colleghi di Agile, del centro di competenza su riuso open source e anche quali strumenti pratici e operativi vengono messi a disposizione di pubblici amministratori, di privati cittadini e di operatori del mercato per interagire in questo appunto come abbiamo definito essere un nuovo ecosistema con queste nuove modalità. Dunque la mia presentazione sarà essenzialmente divisa in due parti principali. La prima appunto descrittiva di che cosa rappresenta il movimento dell'open source internazionale e nazionale e quali vantaggi espliciti, oggettivi questa modalità, questo approccio possa portare all'intero sistema paese. La seconda parte sarà invece più focalizzata sugli strumenti e quindi su una delle iniziative portata avanti dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale denominata Developers Italia che mette appunto in campo tutta una serie di strumenti pratici e operativi per interagire sia con gli altri membri della community che con software e soluzioni informatiche. Mi piace iniziare facendo un brevissimo escurso sulla normativa senza chiaramente dilungarmi in modo troppo importante. Perché? Perché nel codice dell'amministrazione digitale si inizia a parlare, si inizia a intravedere il termine open source fin dalle origini, fin dal 2005. Le pubbliche amministrazioni dovevano iniziare a condividere il proprio software, dovevano anche iniziare in fase di valutazione comparativa a prendere in considerazione soluzioni open source. È nel 2012 che l'open source si fa un po' più spazio tra le altre soluzioni informatiche nelle fasi di valutazione comparativa perché appunto deve essere preferito in fase di comparazione rispetto a una soluzione proprietaria. Questa scelta del legislatore viene ancora più accentuata nella modifica del CAD intorno al 2016 dove il software open source e quindi tutto quanto riguarda la sfera del software a codice sorgente aperto diventa predominante. Vediamo infatti che le pubbliche amministrazioni in fase di sviluppo e dopo aver acquisito la titolarità su una nuova soluzione informatica devono metterla a riuso secondo le modalità definite dall'approccio open source. Quindi vediamo come in questi 11 anni che poi vedremo essere ancora realtà tutt'oggi l'open source sia a livello nazionale quindi a livello normativo e legislativo italiano che a livello internazionale si è espanso e ha guadagnato sia fiducia che solidità nella propria offerta e nelle soluzioni. Ma che cosa vuol dire open source? Quando parliamo di open source spaziamo in una marea di ecosistemi detto prima perché c'è la parte di interazione tra persone c'è la parte di software e quindi di applicativi c'è la parte che si cela dietro al software e quindi il codice sorgente. Per dare una definizione così informale io direi che quando pensiamo al software open source dobbiamo fare un passo indietro quindi andare magari anche nella declinazione italiana quindi di soluzione informatica a codice sorgente aperto e quindi ci fa pensare che non dobbiamo limitarci al software applicativo che usiamo e con il quale interagiamo nelle nostre giornate lavorative per portare a compito e a termini i nostri compiti ma dobbiamo fare un passo indietro ovvero dobbiamo pensare al codice sorgente che quindi queste stringhe scritte in uno o più linguaggi di programmazione che una volta trattate, compilate, assemblate porteranno poi ad avere un eseguibile un codice oggetto che poi noi eseguiamo e utilizziamo tutti i giorni. Bene, quando parliamo di software open source ci riferiamo in maniera esplicita a questo codice sorgente che nel mondo open source deve essere aperto deve essere pubblicamente raggiungibile. Ovviamente questa diciamo è la condizio sine qua non non posso pensare di avere un codice open source se non ho a disposizione il codice sorgente però è solo il primo step. Il secondo step è la garanzia di poter fare una serie di operazioni con questo codice sorgente. Non mi basta averlo ma devo essere in grado di eseguirlo devo essere in grado di leggerlo e quindi di studiarlo posso e devo poterlo modificare e soprattutto posso ridistribuire sia la versione originale che la versione modificata senza restrizioni. Bene, questo è quello che si definisce essere le quattro libertà le quattro possibilità garantite da un software open source e sono i pilastri sui quali si basa tutto il movimento. Ovviamente come potete immaginare la disponibilità del codice e la disponibilità di questo spettro di questo ventaglio di libertà mette in grado sì esattamente poi faremo una digressione anche su software libero e open source visto il commento che è anche una questione che mi sta molto a cuore e visto questo ventaglio di possibilità garantite dalle quattro libertà del software libero andiamo poi ad abbracciare un nuovo modello di sviluppo un modello condiviso un modello di interoperabilità un modello dove si viene a creare una vera e propria comunità una community di persone che agiscono interagiscono verso un fine comune. Come faccio quindi a questo punto ad individuare un software di tipo open source come faccio a capire se questo software rappresenta le libertà di cui abbiamo parlato poc'anzi e come faccio anche a beneficiarne? Beh essenzialmente abbiamo detto che dobbiamo cercare il codice sorgente quindi esistono numerose piattaforme anche detti diciamo repositori o comunque contenitori di codice sorgente che permettono di esplorare una miriade di codici e di software a questo punto all'interno di questi contenitori bisogna cercare un file che si chiama file license di licenza che esplicita un certo tipo di licenza esistono molte licenze alcune più o meno permissive o un po' più restrittive e a seconda del contenuto della licenza da utilizzatore o da utente io posso capire quale tipo di operazioni potrò andare a fare con quale tipo di libertà o restrizione ecco dunque che codice più licenza sono il minimo comune denominatore per tutto quanto riguarda il mondo del software libero open source una volta individuata la licenza e ovviamente vi consiglio di leggerne uno o due anche solo per capire il formato capire effettivamente che cosa viene esplicitato al suo interno è anche interessante andare a estrapolare la nota di copyright e quindi per capire la titolarità e anche in questo caso esistono molte possibilità esistono titolarità in capo a una singola amministrazione possono esistere titolarità o comunque copyright diffuso dove ci sono più utenti ad avere modificato ad aver interagito con quel determinato codice sorgente e quindi in questo modo hanno anche la possibilità di aver riconosciuto appunto il loro lavoro come parte di quel copyright di quel software esiste poi infine una parte ancora più importante determinata dal file readme file readme che è un po' il punto di arrivo per qualsiasi tipo di software open source perché determina in 5-10 minuti rende possibile a chi sta esplorando quella soluzione di capirne il funzionamento le funzionalità e quant'altro e quindi io credo che queste piccole indicazioni siano veramente fondamentali nel momento in cui io mi trovo di fronte a un repository di codice sorgente per capire esattamente con che tipo di soluzione io mi sto interfacciando e quindi con che tipo di licenza e software io mi sto interfacciando appunto e quindi il codice open source non deve essere solo esposto in un repository ma deve avere queste caratteristiche andiamo dunque a delineare quali possono essere dei vantaggi oggettivi che il codice a sorgente aperto software libero può in qualche modo garantire sia allo sviluppatore che all'utilizzatore che alla comunità allargata come in questo caso parliamo essenzialmente di pubblica amministrazione quindi un contesto pubblico il primo punto sul quale mi preme fermarmi analizzare è quello del da una parte dell'aspetto economico quindi del possibile risparmio ma dall'altra anche in un'ottica di investimento cioè molte volte si parla di open source erroneamente lo si associa a una gratuità della soluzione questo come molti di noi probabilmente sanno non è estrettamente vero ovvero il codice è sì disponibile in maniera aperta all'interno di un repository però nel momento in cui lo adotto nel momento in cui poi decido di installarlo e poi quindi potenzialmente di avere un servizio erogato grazie a questo tipo di software ho tutta una serie di costi di installazione manutenzione personalizzazione e quant'altro da sostenere bene questo tipo di di concetto però è interessante da affrontare in ottica di investimento ovvero se pensiamo di dover sviluppare una soluzione ex novo e quindi di dover permettetemi il parallelo reinventare la ruota ogni volta che io abbia l'intenzione di costruire una nuova autovettura ecco che al di là dei tempi molto più lunghi io sto effettuando delle operazioni ripetitive che potrebbero in qualche modo essere scartate e ci si potrebbe focalizzare esclusivamente sul definire sul progettare sul determinare quindi sviluppare una soluzione che si basi già su delle fondazioni solide sviluppate da qualcun altro quindi adottando una soluzione open source che trovo disponibile con una licenza aperta io posso focalizzarmi esclusivamente sulla definizione di queste nuove funzionalità quindi produrre innovazione mettendo quindi a rendita il mio investimento e moltiplicando il ritorno perché la prossima pubblica amministrazione nel momento in cui adotterà la mia soluzione avrà anch'essa la possibilità di implementare nuove funzionalità produrre nuove innovazioni e non dover investire per reinventare delle soluzioni delle funzionalità o delle componenti che io ho già sviluppato e che erano già sviluppate nel mondo open source previamente parallelo con il mondo finanziario diciamo possiamo anche pensare in realtà alla finalità ultima di una pubblica amministrazione che resta quella di servire nel modo più efficiente e ottimale il proprio cittadino la propria cittadinanza codice aperto software libero open source implicano di nuovo l'idea di avere un rapporto il più possibile trasparente e aperto verso il cittadino avendo una gestione delle cosiddette issue in inglese o comunque delle possibili funzionalità o problematiche del tutto aperto è possibile interagire con il cittadino e quindi chiedere dei feedback diretti coinvolgere il cittadino che sarà il mio utente finale nelle fasi di progettazione nelle fasi di definizione e anche in modo incrementale per andare a correggere eventuali problemi nel software ecco dunque che codice aperto software libero open source implica avere una modalità più interattiva di sviluppo e di definizione dei miei servizi pubblici digitali che coinvolgono l'utente in questo caso il cittadino fin dal principio open source vuol dire anche trasparenza trasparenza non esclusivamente nel sorgente ma anche nella questione di vedere ad esempio immaginiamo un fornitore esterno o comunque essere in grado di valutare l'avanzamento di un progetto in tutte le sue fasi quindi non devo più ricevere una scatola chiusa senza sapere esattamente che cosa è successo senza sapere quali fasi del processo hanno richiesto più tempo o hanno avuto più problemi ma io posso direttamente esplorarne il contenuto e essere sempre aggiornato sull'avanzamento lavori e anche un'opportunità di formazione formazione interna al proprio ente oppure formazione esterna e quindi questo implica anche la possibilità di far scaturire un mercato di piccole e medie imprese che in modo incrementale imparano si formano studiano il codice sorgente e poi un domani saranno in grado di fornire dei servizi di personalizzazione manutenzione o installazione su quel dato software quindi si viene a instaurare un rapporto un ecosistema vero tra le imprese il territorio e la pubblica amministrazione amministrazione vorrei a questo punto sfatare uno dei miti che da sempre alleggia nel nel mondo dell'information technology e dell'informatica molte volte si parla di erroneamente di problemi di sicurezza dati dall'apertura di un dato di una data base di codice oppure da una data set di soluzioni informatiche la cosiddetta security through obscurity bene questa affermazione questo concetto è stato smentito ormai molti anni fa sia a livello di letteratura che chiaramente a livello pratico e questo questo concetto viene del tutto superato con una gestione acuta e quindi secondo le linee guida tra l'altro quali abbiamo definito anche come developers italia come dipartimento della trasformazione digitale perché una gestione sapiente di una base di codice aperta e quindi secondo le definizioni che abbiamo visto poco fa e quindi quella che è la modalità open source può garantire maggiore sicurezza perché più persone e potenzialmente più contributori possono essere in grado di valutare e captare un possibile errore segnalarlo e andare potenzialmente anche a correggerlo ecco dunque che sicurezza è una delle questioni che più stanno a cuore a chi promuove la modalità open source appunto per questa mobilità per questa dinamicità degli interessati che possono interagire possono andare a correggere un problema ancora prima che possa scatenarsi e possa diventare un vero e proprio breach di sicurezza e poi c'è anche la questione della rendicontazione anche detta auditing in inglese io sono sempre in grado di sapere a che punto è un progetto sono sempre in grado di intervenire prima che una determinata una determinata situazione scomoda possa verificarsi abbiamo elencato alcune delle caratteristiche del software libero e open source che possono sicuramente essere abbracciate nel contesto della pubblica amministrazione e la pubblica amministrazione italiana chiaramente questi sono alcuni dei come dire vantaggi espliciti oggettivi che il software open source ci prospetta chiaramente intorno a una base di codice una data soluzione informatica aperta e condivisa è necessario costruire una community quindi un ecosistema che vada al di là del codice stesso quindi è vero che il codice viene reso disponibile è vero che può essere studiato e può essere migliorato in diverse fasi da diverse persone ma è anche vero che è necessario mettere in campo delle iniziative mettere in campo una serie di attività tali per cui sia possibile che questo scambio avvenga e sia possibile far sì che sia il più fluido possibile quindi senza potenziali problematiche o come si dice in termini tecnico issue chiaramente open source vuol dire incoraggiare stimolare una cooperazione ma è anche vero che da questo modello possono affiorare una serie di nuovi modelli di business incentrati sulla competizione una competizione sana una competizione dove effettivamente è il codice stesso a parlare e non più il flyer o comunque la pubblicità e la gestione del marketing intorno a un prodotto se il mio prodotto open source è buono è stabile efficiente efficace e sicuro io in fase di valutazione comparativa sono in grado di cogliere queste caratteristiche sono in grado di preferirlo rispetto ad un'altra soluzione mi piace condividere uno studio della commissione europea di qualche mese fa che sottolinea come il ritorno degli investimenti in termini di software per quanto riguarda il software libero open source sia incredibilmente elevato si stima infatti come nell'ambito europeo negli ultimi anni ogni euro investito in un progetto di tipo libero open source generi almeno 4 euro in in PIL ovviamente sono stime macroeconomiche che però danno un'idea sull'impatto che può avere a livello sia nazionale che internazionale su scala europea in questo caso parlando di Europa parlando di contesto extra italiano è interessante valutare come altri stati membri o appunto anche stati quali gli Stati Uniti d'America abbiano approcciato questo nuovo fenomeno questo nuovo buzzword come abbiamo detto in principio di relativo al software libero open source e come stiano portando avanti delle attività in tal senso uno tra i primi esempi più lampanti forse è quello della commissione europea che pochissimo tempo fa ha varato la nuova strategia 2023 sul digitale quindi sulla trasformazione digitale della commissione e questa strategia parla in modo esplicito di codice software libero open source qualche settimana fa il presidente del direttorato generale dell'informatica il digit ha affermato che il futuro dell'Europa si basa sulle solida fondamenta dell'open source e quindi questo è giusto per dare un'idea del contesto nel quale ci stiamo muovendo e dell'evoluzione che sta avendo molto rapidamente il fenomeno del codice sorgente aperto che cosa viene esplicitato all'interno di questa strategia beh viene appunto reso pubblico come da un dal 2005 2006 l'Unione Europea ha iniziato ad addocchiare il mondo del codice software libero open source ha iniziato ad adottare alcune soluzioni come utilizzatore distratto esterno come scrutatore non votante passatemi il parallelo per poi pian piano apprezzarne le qualità e contribuire sempre più a questo a questo intero ecosistema contribuire sia finanziariamente che con sviluppi interni che arrivando appunto come come vedete nella slide a definire una vera e propria strategia di utilizzo e di rilascio delle proprie soluzioni in modalità open source la Commissione Europea per citare una delle iniziative promosse un paio di anni fa è stata Fossa ad esempio che è stato un evento dove hanno individuato una serie di esperti del settore 10-15 soluzioni informatiche particolarmente importanti interessanti chiaramente open source e la Unione Europea ha donato una serie di finanziamenti per andare a consolidarli sempre più e quindi rimuovere potenziali vulnerabilità sugli aspetti di sicurezza e renderli appunto sempre più solidi e efficaci e ottimizzati parlando di Unione Europea non si può non citare il caso francese caso francese dove il DINUM in particolare e poi il piccolo distaccamento denominato Etalab hanno sempre più voluto forzare anche in qualche modo la mano e bruciare delle tappe rispetto ad altri paesi per inserire i concetti l'idea le metodologie e l'approccio del mondo del software libero open source all'interno del contesto della pubblica amministrazione nella slide vedete uno dei dei prodotti che è un catalogo del riuso per parlare di in termini che conosciamo e che conosceremo tra poco anche del contesto italiano dove le pubbliche amministrazioni possono andare a cercare dei software liberi open source andare a cercarne le caratteristiche estrapolare le informazioni e laddove necessario laddove ritenuto opportuno poter adottare la soluzione i francesi non si limitano a questo ma introducono anche una una policy quindi una serie di di regole e di raccomandazioni che consigliano anche come un operatore un funzionario della pubblica amministrazione possa interagire con un software libero quindi con una codebase con un codice sorgente libero e possa effettuare anche dei contributi ecco dunque che è importante questo messaggio perché la pubblica amministrazione non solo riceve i benefici di questo ecosistema ma vuole essere uno tra i principali attori quindi vuole apportare modifiche contributi e anche solo segnalazioni il più possibile e lo vuole rivendicare quindi non vuole farlo in maniera del tutto anonima ma vuole nel caso francese sempre viene richiesto di effettuare queste operazioni con la propria mail con le proprie credenziali utilizzate nell'attività giornaliera lavorativa quindi anche il caso francese è sicuramente un caso da seguire che stiamo seguendo con il quale siamo fermamente in contatto in modo tale da poter sfruttare anche sia i lati positivi che imparare dai loro potenziali errori andando oltre oceano il caso di code.gov ma soprattutto della source code federal source code policy ovvero negli Stati Uniti è stata varata una una policy quindi anche qui un insieme di raccomandazioni per le agenzie della pubblica amministrazione statunitensi e in questo caso viene richiesto ed è controllato a fine anno tassitivamente che almeno il 20% dei nuovi software sviluppati o fatti sviluppare per un'agenzia del governo statunitense debba essere rilasciato in modalità open source ovviamente la policy stessa è di nuovo una serie di raccomandazioni più o meno ad alto livello per rendere operativo per rendere più terra terra quindi più fattuale questa 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 policy è stato realizzato un progetto denominato code.gov che appunto va ad aiutare a fornire una serie di strumenti operativi in modo tale da rendere le agenzie partecipi di questo di questo nuovo flusso di questi nuovi questa nuova iniziativa e dare gli strumenti appunto per poter rilasciare il sorgente poterlo fare in modalità del tutto compatibile con quelli che sono gli standard nazionali ed internazionali anche con il governo americano chiaramente noi stiamo interagendo per andare a definire appunto e anche qui capire dai numerosi feedback ricevuti quali cose possono funzionare come snellire il più possibile anche le nostre modalità e le interazioni con le pubbliche amministrazioni italiane ok abbiamo visto dunque una panoramica su quello che è il software libero open source abbiamo visto come riconoscere un progetto di tipo open source abbiamo visto alcuni esempi di caratteristiche che sempre più stanno venendo a galla a livello nazionale e internazionale che per sottolineare l'importanza di un'adozione di software di questo tipo ma soprattutto per sottolineare quanto un investimento di un investimento pubblico quindi di fondi pubblici debba essere rivolto in questa direzione quindi in ottica di moltiplicare il ritorno di questo investimento mentre bisogna evitare il più possibile di chiudere il risultato dell'investimento quindi dello sviluppo di nuove soluzioni e bisogna cercare di condividere il più possibile con altre amministrazioni sul territorio o anche internazionali in modo tale da produrre innovazione quando si inietteranno altre liquidità si inietteranno altri finanziamenti in questo contesto chiaramente come già accennavo nel modello francese nel modello americano è necessario che a delle linee guida a delle normative di alto livello si affianchino degli strumenti operativi di Velopers Italia è una delle risposte che prima il team per la trasformazione digitale ora il dipartimento per la trasformazione digitale stanno portando avanti per rendere sempre più facile il termine non tecnico però comunque per intenderci l'interazione con questo mondo che ai più potrebbe sembrare un po' ostico soprattutto ai non addetti ai lavori ecco Velopers Italia fornisce degli strumenti quali il catalogo del riuso quali le linee guida dei quali parleranno i colleghi di Agile tra poco ma è soprattutto una community community quindi una comunità di persone che hanno estrazioni del tutto diverse privati cittadini pubblici amministratori funzionari dirigenti in house fornitori piccole medie grandi imprese che operano sul territorio italiano è uno strumento per riunire questi stakeholder e cercare insieme di andare a definire quali possono essere le nuove sfide della trasformazione digitale del nostro paese quindi supportare la pubblica amministrazione andando a riutilizzare e fornire strumenti per riutilizzare il software in modo efficiente coinvolgere tutti gli stakeholder supportare la formazione anche di nuove conoscenze come abbiamo visto la disponibilità del codice sorgente dà la possibilità di formarsi sia internamente la PA che esternamente e tutto questo lavoro ha come finalità l'innalzamento generale della qualità della sicurezza e soprattutto come dicevo prima del controllo che poi il committente ha rispetto al fornitore in modo tale di avere sempre la situazione sotto controllo sempre una panoramica della situazione ben chiara Levelopers Italia dunque community innanzitutto 7.000 8.000 persone sui canali di comunicazione 10.000 12.000 sui canali di comunicazione un po' più asincrona quali il forum a noi piace definirci una community di sviluppatori anche se non tutti effettivamente sviluppano codice ma ognuno di noi può rispetto alla sua formazione e anche alle sue volontà contribuire in qualche modo al software segnalando una problematica apportando una modifica oppure anche dando qualche consiglio per migliorarlo per cambiare un colore o per cambiare un pulsante la particolarità la peculiarità di Developers Italia è che tutto il software che noi stessi produciamo è al 100% open source chiaramente allineato con quelle che sono le normative vigenti ma soprattutto per stimolare anche la nascita la crescita di nuove progettazioni dal basso e quindi da qualunque membro della community che voglia contribuire e voglia apportare delle migliorie tutto è sviluppato ovviamente nativamente open source e questo è un altro piccolo bit di informazione che aggiungo perché open source si può fare in molti modi diversi open source si può fare come ultimo step ultimo gradino cioè io sviluppo il mio software e poi a un certo punto alla fine del ciclo di sviluppo lo pubblico all'interno di un repository e lo metto con una licenza aperta e divento open source open source invece nativo è open source che nasce fin dal primo commit quindi fin dalla prima azione come modalità collaborativa quindi si discute se ne parla sui fori pubblici si implementano le prime funzioni e poi piano piano in modo del tutto trasparente rispetto al cittadino rispetto al nostro utente finale si costruisce potenzialmente anche insieme la soluzione finale quindi questa è un po' la peculiarità appunto di Developers Italia che ci contraddistingue nelle nostre progettazioni Developers Italia e vi faccio vedere brevemente anche se è abbastanza piccolo il sito web che vi invito a visitare developers.italia.it ha tre sezioni principali la prima è dedicata alle piattaforme la seconda al software e la terza alle API andiamo un attimo per step a studiare ognuno di queste tre macro blocchi funzionali piattaforme è una sezione piattaforme rappresenta un elenco di piattaforme abilitanti così come erano definite nello scorso piano triennale alcune sono presenti altre possono e sono in via d'arrivo diciamo addirittura d'arrivo all'interno del nostro di questo portale e la cosa interessante però era cercare di non dare esclusivamente del materiale descrittivo di documentazione di queste piattaforme ma fornire degli strumenti di nuovo operativi quindi all'interno di ciascuna di queste piattaforme è possibile sia visualizzare studiare la documentazione che trovare delle librerie per lo sviluppo quindi strumenti per gli sviluppatori software è possibile trovare delle risorse come possono essere le risorse grafiche quali il pulsante di login con speed oppure quello per CIE è possibile trovare anche degli strumenti di test quindi ambienti ad hoc pensati solo per facilitare le attività di sviluppo di test di una tale operazione come può essere ad esempio il caso del sistema pubblico di identità digitale che ha appunto all'interno della nostra sezione una istanza dedicata a questi test quindi al test di integrazione a test funzionali per verificare effettivamente tutte le funzionalità del sistema sviluppato ecco dunque nella sezione piattaforme c'è sia documentazione che materiale pratico ovviamente del tutto open source che serve sia allo sviluppatore che all'integratore che potenzialmente anche alla pubblica amministrazione in fase di valutazione di un nuovo sistema di autenticazione rispetto a un nuovo sistema da integrare all'interno dei propri gestionali delle proprie piattaforme la terza sezione prima di saltare alla sezione sul riuso è denominata API questo è una selezione di alcuni dei servizi pubblici che vengono che espongono delle interfacce quindi delle interfacce anche dette API application programming interfaces questa selezione di nuovo non è esclusivamente una selezione che presenta la descrizione delle interfacce e qualche documentazione di alto livello ma dà la possibilità di sapere sempre allo sviluppatore a chi poi dovrà effettuare la progettazione di un nuovo servizio digitale di sapere quali tipi di richieste quali tipi di risposte verranno effettuate dalla tal interfaccia e dal tal sistema quindi è un passo in più rispetto a definire esclusivamente delle note informative perché viene da sviluppatori ci siamo interrogati sulla necessità che un altro sviluppatore potrebbe avere quindi abbiamo fornito delle risposte pratiche e immediate ad alcuni tra questi problemi ecco quindi che Developers Italia da una parte con le piattaforme piattaforme abilitanti dall'altra con le API con le interfacce mette a disposizione strumenti pratici operativi la terza sezione denominata catalogo del software a riuso open source non è il focus di questa presentazione ma immagino ne parleranno sicuramente gli speaker dopo di me e comunque contiene il catalogo del software messo a riuso da una pubblica amministrazione oppure software cosiddetto di terze parti ovvero software open source che viene messo all'interno del catalogo in modo tale da essere preso in considerazione in fase di valutazione comparativa per l'acquisizione di una nuova soluzione developpress italia chiaramente abbiamo detto sviluppa sin dal principio in modalità aperta in modalità condivisa in modalità trasparente tutto questo tipo di operazione avviene all'interno di un contenitore come dicevamo all'inizio un contenitore di codice sorgente nel nostro caso è github e quindi vi invito a visitare github.com slash italia per andare a vedere con i vostri occhi effettivamente come avviene questo sviluppo in maniera collaborativa e come chiaramente interagire con queste vasi di codice quindi aprire una issue fornire un parere dare un feedback oppure richiedere una nuova funzionalità questo è uno dei punti di partenza github.com slash italia per iniziare la fase di studio di formazione che in molti casi è una prerogativa del software open source codice sorgente che quindi è salvato su github.italia e in parte github.italia è connesso alla piattaforma documentale denominata docs.italia sul quale viene automaticamente pubblicata tutta una serie di documentazione di documenti sia normativi quindi cogenti che di più ampio respiro come potrebbero essere ad esempio la nostra guida allo sviluppo e la gestione di software libero per la pubblica amministrazione che vi invito a consultare che quindi in qualche modo all'interno di questa piattaforma docs.italia.it prende vita in modo del tutto accessibile ovvero è possibile finalmente grazie a questo meccanismo di integrazione tra le due piattaforme a accedere a questi contenuti in modo del tutto naturale usando tutte le potenzialità che il web ci offre avendo delle interfacce che sono accessibili sia a dispositivi mobile che a dispositivi desktop e avendo chiaramente anche la possibilità di vedere quello che noi definiamo essere la storia del documento quindi è possibile vedere ad esempio nel caso del codice amministrazione digitale le differenze che vi illustravo poc'anzi negli anni come il documento è cambiato è possibile esplorare questo tipo di storia del documento grazie alle funzionalità di Docs Italia ecco dunque che ancora dal punto di vista dello sviluppatore per la PA vengono messe a disposizione una serie di strumenti pratici operativi per andare a semplificare le operazioni di integrazione parlando di community non possiamo non citare gli strumenti operativi per come dire rimanere in contatto con il resto dei partecipanti degli stakeholder in questo caso Devil Press Italia ha scelto due strade una sincrona e quindi con un'interazione tramite internet messaging il più possibile diretta e una un po' più asincrona e quindi con l'utilizzo di un forum partendo dall'interazione sincrona al nostro strumento che si chiama Slack si può raggiungere tramite l'indirizzo developers.slack.com è possibile andare a developers Italia scusatemi .slack.com è possibile andare a interagire con una miriade di persone siamo intorno ai 7-8000 non ricordo il numero esatto comunque moltissime persone che giornalmente si confrontano e cercano in modo collaborativo di trovare nuove soluzioni a potenziali problemi potenziali nuove sfide stessa cosa in maniera un po' più asincrona è possibile sul forum forum.italia.it che in realtà è un è un luogo più pubblico dove ci sono diverse discussioni ci sono diversi thread all'attivo ed è possibile lasciare il proprio messaggio e poi con calma e con tutta una serie di tempistiche un po' più dilatate rispetto al canale sincrono è possibile ricevere una serie di risposte una serie di suggerimenti e di interazioni per concludere quindi in modo tale da dare anche degli spunti di ragionamento degli spunti di riflessione e anche ricevere tutta una serie di feedback rispetto a quanto ci siamo detti abbiamo in cantiere degli eventi e quindi una serie di opportunità sempre più sincrone e sperabilmente in futuro anche più dal vivo di persona di incontrarci di incontrarci tra membri della community e di scambiarci opinioni e considerazioni il prossimo evento il più vicino diciamo alla data odierna è quello del 14 luglio prossimo venturo ovvero avremo in tale data un piccolo evento molto informale dedicato alla community che noi definiamo essere community call per appunto trovarci conoscerci e soprattutto scambiare alcuni di queste buone pratiche e buone storie interattive piacevoli del mondo della trasformazione digitale vedete il link nella chat e siete ovviamente benvenuti a venire nel prossimo nel prossimo incontro che parlerà in maniera specifica di speed e quindi delle sfide dell'integrazione i problemi che giornalmente in qualche modo affliggono gli sviluppatori gli integratori del sistema pubblico di identità digitale e le possibili soluzioni quindi come affrontare e come affrontare appunto in maniera aperta e condivisa questa progettazione io mi fermerai qui lascio spazio alle domande e qui potete trovare i miei riferimenti in caso vogliate scrivere o chiaramente consultare gli strumenti a disposizione bene grazie mille Leonardo grazie tante per questa esposizione chiara sintetica sei stato nei tempi perfettamente allora mi pare che le domande in questo momento non ci siano a parte il link alle migliori pratiche di sicurezza per lo sviluppo di modalità open che vi forniamo sicuramente qui in chat oltre a quello appunto per partecipare all'incontro all'incontro che vi ha fornito Michela Gabrielli all'incontro del 14 di cui diceva Leonardo allora se se non avete le domande adesso io proporrei di anticipare la pausa e quindi di ritrovarci qui tra dieci minuti più o meno alle 15 e 29 per dare il via poi alle comunicazioni con i nostri esperti di Agid quindi se avete delle domande le possiamo porre poi dopo a Leonardo quando quando ritorniamo va bene allora facciamo la pausa e ci ritroviamo alle 15 e 29 se c'è Leonardo in linea se è tornato dalla pausa anche lui mi sottoperrei la domanda Leonardo c'è una domanda di Luca Leonardo Scorcia non so se hai avuto modo di leggerla e l'ho evidenziata sì un attimo te la leggo se vuoi te la leggo io che ti ringrazia per la presentazione poi dice io ho una domanda relativamente alla manutenzione dei progetti a riuso spesso accade che questi progetti siano in realtà versioni light o senza supporto di prodotti commerciali realizzati da varie aziende magari versioni che non ricevono aggiornamenti tempestivi in caso di problemi di sicurezza o che usano versioni obsolete di framework di sviluppo in tal caso l'amministrazione dovrebbe rivolgersi sul mercato per fare adeguare la soluzione questo comporta sostanzialmente rivolgersi alla ditta originale perché il preventivo gestito dal fornitore originale è quasi automaticamente più basso di qualsiasi altro sviluppatore sul mercato questo non costituisce violazione al codice degli appalti sì grazie Luca beh direi che essenzialmente questa domanda già ha una risposta nel senso che nel nel modello tradizionale diciamo di software non libero quindi proprietario questa cosa è scontata nel senso che non ci si porrebbe neanche il la questione ovvero non ci sarebbe neanche la possibilità di andare sul mercato a chiedere un eventuale intervento da parte di terzi invece un modello basato su software libero e open source permette questo tipo di interazione con altri player del mercato che in questo modo possono avendo a disposizione il codice sorgente interagire e potenzialmente anche fare un'offerta il lato manutenzione ordinaria patching di sicurezza e così via abbiamo dei casi dove questo effettivamente è avvenuto ora chiaramente il caso estremo che in qualche modo palesi tu del fatto di dire abbiamo una versione light di una versione commerciale che è un po' una pratica sappiamo in alcuni casi essere realizzarsi essere vera però un po' un po' come dire poco ortodossa questo è un po' un caso estremo diciamo che in un mondo un po' più concreto come potrebbe essere il mondo di soluzioni enterprise open source c'è la possibilità di avere un riscontro diretto da parte di una pluralità di fornitori e quindi a tutti gli effetti si abilita una competizione sana sul territorio quindi in parte sono d'accordo con te in alcuni casi l'offerta potrebbe essere un po' borderline quasi uno specchio per le allodole però diciamo nella maggior parte dei casi questo non avviene si abilita invece una una serie di possibilità che normalmente con il codice chiuso un codice proprietario non si potrebbero avere poi ho visto un'altra domanda prima e ho provato a dare una risposta nel senso che hai fornito il link sì esatto quello è uno dei link chiaramente è uno quella è una guida pratica operativa che stiamo scrivendo quindi chiaramente ogni tipo di input feedback e stimolo è benvenuto sia su github che ovviamente la versione su docs italia ed è una guida che appunto vuol fare uno step in più diciamo la nostra logica era partire dal codice amministrazione digitale norma primaria che delinea ad alto livello quali sono gli interventi necessari in modo specifico sull'articolo 68 69 valutazione comparativa messa a riuso abbiamo poi definito delle linee guida che quindi se uno si ecogenti però a tutti gli effetti danno degli strumenti pratici poi abbiamo fatto ancora uno step successivo per rendere ancora più pratico il suggerimento le best practice e quant'altro questa quindi è una delle nostre risposte c'è poi anche il documento emesso da Agit che sono linee guida ufficiali sullo sviluppo di software sicuro io credo che con questi due documenti sia già possibile avere una panoramica pratica di come di come rilasciare in maniera del tutto come dire sana e senza senza preoccupazioni le proprie soluzioni ci sono anche tutta una serie di strumenti suggeriti per mettere in integrazione continua appunto e per essere in grado di valutare lo stato del codice della base di codice ad ogni interazione colgo poi con con piacere il commento di Nicola relativo alla terminologia se non erro ma smentitemi il codice per l'amministrazione digitale cita esplicitamente nel 68 il software libero e software a codice aperto a codice sorgente aperto quindi si è vero dal mio punto di vista sicuramente la terminologia più così più autoesplicativa è quella di dire software libero e open source grazie non so se questo chiarisce almeno dal mio punto di vista grazie a te e grazie a voi grazie grazie tante allora passerei la parola così a modo di rispondere anche agit diciamo alla richiesta di Nicola Vallinoto passerei la parola a Daniela Pascale del team del centro di competenza riuso e open source di Agid che fa una comunicazione dal titolo CAD linee guida su acquisizione e riuso di software per le pubbliche amministrazioni amministrazioni si buongiorno ok benissimo benissimo buongiorno a tutti grazie per l'ascolto che presterete a questo slot di approfondimento sul quadro normativo delineato dal codice dell'amministrazione digitale e sugli indirizzi suggerimenti e la metodologia prevista dalle linee guida sull'acquisizione e riuso di software per la pubblica amministrazione insieme coglieremo la valenza strategica delle disposizioni previsti dal codice dell'amministrazione digitale ma andremo anche a cogliere quelle chiavi di diciamo prospettiva che l'ambito del riuso e l'open source delineano per le pubbliche amministrazioni in questo approfondimento andremo quindi a indagare in maniera come dire verticale nelle disposizioni previsti dal CAD e andremo insieme ad approfondire il processo decisionale con cui una pubblica amministrazione intraprende il percorso di acquisizione o riuso di software tramite appunto delle spasi che vengono esplicitate nell'ambito appunto dello strumento operativo che proprio le linee guida rappresentano entriamo nel vivo del codice dell'amministrazione digitale che vede una vita abbastanza movimentata dal punto di vista delle modifiche e delle integrazioni che hanno interessato anche il caposesto rubricato sviluppo acquisizione e riuso di sistemi informatici nelle pubbliche amministrazioni è un diciamo caposesto che ha registrato diverse diciamo modifiche e integrazioni a cui accennava anche precedentemente Leonardo Favario e che sin dal decreto legislativo del 2016 numero 179 successivamente integrato e modificato dal decreto legislativo del 2017 si è effettivamente apportata una modifica al regime di riuso che era precedentemente previsto appunto dal CAD e si è abolita quella che è la banca dati dei programmi informatici dando una valenza e un impulso a quella che è diciamo il paradigma open source da parte del legislatore prevedendo appunto che siano privilegiate le soluzioni open source messe a disposizione dalle pubbliche amministrazioni o soluzioni open source di terzi questo diciamo ecco principio che noi rinveniamo nell'articolo 68 che ho riportato nella maniera diciamo più esaustiva rispetto ai conni che sono previsti ci dà il quadro di quello che è il contesto dell'analisi comparativa delle soluzioni le pubbliche amministrazioni acquisiscono programmi informatici o parti di esso a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra soluzioni disponibili sul mercato ed articolate secondo appunto software sviluppato per conto della pubblica amministrazione riutilizzo di software o parti di esso sviluppati per conto della pubblica amministrazione software libero a codice sorgente aperto software fruibile in modalità cloud computing e software di tipo proprietario mediante ricosto licenza d'uso software combinazioni delle precedenti soluzioni questo è il panorama cui ci consegna l'articolo 68 del CAD nel momento in cui l'amministrazione si pone nell'intendimento di operare un'acquisizione di un programma informatico quindi siamo richiamati a effettuare una valutazione prima di procedere secondo le procedure previste dal codice degli appalti effettuando una valutazione che tenga conto di determinati requisiti criteri criteri che saranno diciamo il filo conduttore che ci diciamo prospetterà la macrofase relativa alla valutazione nell'ambito delle linee guida che vedremo tra poco i criteri a cui l'articolo 68 diciamo fa riferimento tengono presente il costo complessivo del programma quindi della soluzione che viene considerata il livello di utilizzo e di formati di dati e di interfacce di tipo aperto questo per diciamo garantire assicurare l'interoperabilità e la cooperazione applicativa tra i diversi sistemi e garanzie del fornitore in materia di livelli di sicurezza tutta diciamo ecco l'operazione di valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico viene appunto svolta con una modalità che è stata definita appositamente con le linee guida adottate dall'Agid questo quadro ci permette di aver ben chiaro che ciascuna amministrazione nel momento in cui ha la necessità di acquisire una soluzione informatica deve in modo prioritario svolgere un'analisi comparativa delle soluzioni nelle modalità che vedremo nelle slide successive entrando nel vivo delle linee guida l'articolo quindi 68 dedicato all'analisi comparativa delle soluzioni inquadriamo anche l'articolo 69 del CAD per delineare il perimetro di applicazione non solo oggettivo ma anche soggettivo e andiamo a cogliere la valenza che questa disposizione rappresenta in termini appunto di valorizzazione dell'ambito dell'open source perché le pubbliche amministrazioni titolari di soluzioni e programmi informatici hanno l'obbligo di rendere disponibile il relativo codice sorgente completo della documentazione e rilasciato il repertorio pubblico sotto licenza aperta la disposizione ci consegne una prima riflessione ogni ciascuna amministrazione deve in questa diciamo realizzazione dell'attività di rilascio del codice verificare tramite un censimento il software che è nelle sue disponibilità e di cui è già titolare per poter rilasciare il codice sorgente completo della documentazione e sotto licenza aperta a questa disposizione prevista dal CAND ricordo anche la previsione del piano triennale per informatica della pubblica amministrazione che chiaramente prevede che entro ormai un tempo superato le amministrazioni entro aprile dovevano appunto rilasciare il codice sorgente e quindi ottemperare a quello che è l'obbligo previsto dalla norma le pubbliche amministrazioni quindi ad oggi sono richiamate a effettuare quindi una ricognizione delle soluzioni di cui sono proprietari quindi titolari e verificare se la soluzione così come prescrivono le linee guida sia in uso in quanto le linee guida hanno diciamo previsto un arco temporale oltre il quale la soluzione diciamo non è soggetta a questo obbligo di rilascio poiché le soluzioni che sono non sono in uso da oltre cinque anni dalla data di pubblicazione delle linee guida e quindi maggio 2019 diciamo perdono quell'interesse perché ovviamente le soluzioni possono essere obsolete non in uso e quindi non di interesse per incrementare il valore che il patrimonio informativo della pubblica amministrazione chiaramente rappresenta questo obbligo vede delle come dire eccezioni le eccezioni sono date da motivate ragioni di ordine sicurezza pubblico di difesa nazionale e consultazioni elettorali per cui l'obbligo vigge è l'eccezione data appunto da casi per i quali le amministrazioni nel caso in cui dovessero valutare queste motivazioni chiaramente sono esenti da questo obbligo di rilascio del codice sorgente il secondo comma di questo articolo 69 ci riporta a un principio anche diciamo richiamato dalla legge sul diritto d'autore del 1941 la 633 in quanto il comma 2 ci richiama a favorire il riuso dei programmi informatici prevedendo nei capitolati e nelle specifiche di progetto salvo che risulti eccessivamente onoroso per comprovate ragioni di carattere tecnico o economico che le amministrazioni committente sia sempre titolare di tutti i diritti sui programmi e i servizi dell'ecologia e dell'informazione questo per diciamo ecco dare un forte impulso alla alle attività di rilascio e di acquisizione diciamo della titolarità della soluzione che come vi dicevo non può che richiamarci anche l'attenzione a quella che è già una norma prevista dalla legge sul diritto d'autore che prevede che le amministrazioni dello stato le province comuni spetta il diritto di autore sulle opere create e pubblicate sotto il loro nome e al loro conto estese questa diciamo previsione nel corso della giurisprudenza consolidata è stata anche diciamo approfondita da un punto di vista del rapporto con i fornitori dei rapporti anche contrattuali con i fornitori in quanto per costante giurisprudenza è bene che sia prevista nei contratti e quindi che l'amministrazione diciamo ecco realizza con i fornitori di inserire clausole specifiche che prevedano la riserva della titolarità in capo all'amministrazione quindi l'amministrazione diviene titolare dei programmi informatici titolarità della proprietà intellettuale e industriale sulla soluzione il codice sorgente l'ultimo comma 2 bis e la documentazione e la relativa descrizione tecnico funzionale sono pubblicati attraverso la piattaforma individuata dall'AGI della piattaforma developers Italia qui vi ha accennato precedentemente Leonardo nella sua ecco illustrazione della piattaforma developers Italia queste chiaramente le l'inquadratura dei due articoli che ci consegnano diciamo alcune riflessioni cosa cambia le pubbliche amministrazioni effettuano una valutazione quindi comparativo di tipo tecnico economico secondo le modalità definite dall'AGI con le linee guida le pubbliche amministrazioni devono privilegiare le soluzioni open source a partire da quelle messe a riuso dalle pubbliche amministrazioni e le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di rendere disponibile il codice sviluppato sotto licenza aperta questi sono diciamo i punti chiave dei nuovi ambiti di attività delle pubbliche amministrazioni che chiaramente sono diciamo dei principi da applicare secondo quanto le linee guida prevedono nei loro indirizzi metodologia suggerita infatti le linee guida che sono il frutto di un lavoro congiunto dell'AGI e del loro team per la trasformazione digitale sono state adottate nel maggio del 2019 pubblicate in gazzetta ufficiale proprio per diciamo consentire alle amministrazioni di avere uno strumento un ausilio al proprio processo decisionale rappresentano uno strumento operativo interessante anche da un punto di vista diciamo della sua fruizione nell'ambito dei capitolati perché si compone di allegati che possono essere acclusi e quindi inseriti nei capitolati tecnici e rappresentano come ecco ad esempio l'allegato P delle linee guida che è un allegato riferito alla guida e alla manutenzione del software o l'allegato C che è una guida alla modifica del software open source preso riuso da terzi tracciano già il percorso il quale diciamo anche il fornitore si deve attenere per poter essere diciamo l'amministrazione conforme al dettato delle linee guida il processo diciamo decisionale con il quale vengono definite le fasi che le amministrazioni realizzano per raggiungere alla individuazione della soluzione idonea alle sue esigenze si articolano in tre macrofasi la macrofase 1 è la macrofase dell'individuazione delle esigenze e rappresenta una fase molto importante perché è la fase che condurrà ad un output che è quello di un documento descrittivo dei fabbisogni dei vincoli che condizionano la scelta dell'amministrazione in termini economici in termini temporali di conformità ad eventuali norme che il software dovrà seguire nella propria implementazione tecnica e sarà il documento che condurrà l'amministrazione nella scelta della soluzione migliore e idonea a soddisfare in larga parte le proprie esigenze e questo percorso si articola nella macrofase cosiddetta 2 tramite appunto la ricerca di soluzioni riusabili quindi di soluzioni messe a riuso da parte delle pubbliche amministrazioni sulla piattaforma developers la valutazione diciamo circoscrive anche i criteri ai quali le amministrazioni devono attenersi nel momento in cui l'amministrazione ha individuato sul catalogo developers due o più soluzioni di interesse esercita quindi effettua una valutazione comparativa di tipo tecnico economico tenendo presente appunto i criteri stabiliti dall'articolo 68 del CAD la conclusione di questo processo legato alla macrofase 2 ci consegna l'individuazione di una soluzione o meno nel caso in cui l'amministrazione non dovesse diciamo avere la soddisfazione dei suoi fabbisogni provvede ad estendere la sua ricerca nell'ambito delle soluzioni open source di terzi procedendo con gli stessi criteri e le stesse modalità previste per le soluzioni a reuso messe a reuso dalle pubbliche amministrazioni nel caso in cui non fosse possibile individuare una soluzione a messa a reuso una soluzione open source di terzi l'amministrazione redige un documento in cui accerta e motiva le regioni per le quali non ha diciamo individuato una soluzione confacente ai suoi fabbisogni tale da portarla a considerare le soluzioni proprietarie o soluzioni ex novo e nella macrofase 3 della soluzione diciamo della ricerca delle soluzioni proprietarie l'amministrazione è sempre tenuta a verificare la conformità alla normativa vigente rispetto alla normativa sull'accessibilità alla normativa sulla protezione dei dati dei dati personali sui livelli minimi di sicurezza ed elabora nello stesso tempo un documento contenente un progetto di fattibilità per poter poi comparare sia la soluzione proprietaria individuata sia la ipotesi diciamo di realizzazione di soluzione ex novo in una logica di mecca or vai per andare a verificare vantaggi e svantaggi delle soluzioni per giungere poi all'approvvigionamento della soluzione secondo le procedure previste dal codice degli apparti ma le linee guida hanno non solo una valenza strategica dal punto di vista del percorso decisionale che portano all'individuazione di una soluzione o allo sviluppo di una soluzione ex novo ma danno l'opportunità di diciamo condurre anche l'amministrazione alla scelta di una licenza da apporre alla alla soluzione scelta della licenza come effettuarla ecco la licenza va individuata tra le licenze certificate dall'open source initiative le linee guida suggeriscono un albero decisionale che va a considerare innanzitutto per il caso del software riferita ad una diciamo software nuovo la licenza EUPL nella versione 1.2 è una licenza che è stata diciamo adattata e scritta dalla commissione europea e ha un copyleft diciamo che significa che i contributi e i miglioramenti distribuiti saranno restituiti o condivisi con il licenziante e con tutti gli altri utenti e allo stesso tempo è una licenza compatibile con la maggior parte delle licenze reciproche aperte è compatibile e significa che l'opera coperta dalla licenza EUPL può essere utilizzata fu distribuita in un'altra opera coperta da licenze che sono elencate a margine del testo della licenza EUPL che voi trovate in italiano in quanto questa licenza è stata individuata e tradotta in 23 diciamo lingue proprio per essere considerata la licenza idonea a essere apposta per la distribuzione del software è una licenza tra l'altro che ha una caratteristica di interoperabilità significa che è interoperabile perché applicando diciamo è applicata secondo la legge europea che chiarisce che le interfacce le pie e le strutture diciamo dati coperte possono essere liberamente copiate e riutilizzate per l'implementazione diciamo o collegamento con qualsiasi altro componente indipendente senza influire diciamo sulla licenza del componente stesso questo certamente prevede anche delle eccezioni previste dalle linee guida rispetto al caso in cui il software è utilizzato principalmente via rete si fa riferimento alla licenza a ferro general public license nella versione 3 e viene anche considerata la licenza diciamo per librerie software e non dimentichiamo che anche la documentazione tecnica del software deve avere diciamo applicata la sua licenza che viene appunto suggerita nella Creative Commons la CC BY 4.0 sulla diciamo ecco definizione del quadro diciamo generale delle linee guida questa e concludo con questa slide ringraziandovi per l'attenzione e rimanendo disponibile per qualsiasi richiesta di chiarimento in merito ai temi trattati grazie grazie mille Daniela allora ringraziamo Daniela e passiamo subito che abbiamo un lieve ritardo la parola a Guido Pera che è il responsabile del centro di competenza riuso e open source di Agid ecco che appunto ci parla del centro del coinvolgimento attivo del territorio e dell'asset Guido prova a parlare mi sentite ecco benissimo ti sentiamo così chiudo la webcam e il microfono e lascio a te la parola benissimo allora io parto subito di corsa visto che il tempo comunque stringe allora io essenzialmente parlerò vi parlerò di tre di tre argomenti il primo è un po' quello che offre alle pubbliche amministrazioni il centro di competenza riuso e open source accenderò qualcosa sulla valutazione comparativa e finirò per fare un breve cenno che comunque secondo noi è veramente importante per quanto riguarda le prospettive aperte dal piano triennale in corso sul discorso appunto di avere un rapporto molto più stretto abbracciando guarda caso la cultura dell'open source soft bar soft libero con le regioni e con i territori parliamo subito del centro di competenza riuso e open source sorto in quasi contemporanea con la pubblicazione delle linee guida del 2019 essenzialmente le attività del centro del centro di competenza sono intanto la prima innanzitutto quella di supportare le PIA nella individuazione e nella condivisione dei modelli di governance cosa si intende questo è chiaramente l'introduzione di un modello open source all'interno dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni in qualche maniera crea delle novità crea delle situazioni nuove soprattutto per quanto riguarda tutta l'attività per esempio di procurement quindi di rifornimento di tutte quelle soluzioni software che sono necessarie per la pubblica amministrazione in questo come si esplica intanto noi diamo supporto e in questi due anni già siamo intervenuti tre volte in maniera importante affiancando le pubbliche amministrazioni in cui tutti quei problemi nuovi dal punto di vista giuridico che possono nascere dalla scelta della licenza corretta ma soprattutto anche di quello che le scelte delle licenze e delle varie dipendenze che queste licenze hanno nei confronti di software di terzi comportano considerate che quando si fa una scelta di una licenza open source la problematica è quella a questo punto di interagire con altre licenze licenze chiaramente che sono gestite da altri di cui sono titolari e altri soggetti noi diamo sicuramente supporto da questo punto di vista cerchiamo quindi di diffondere naturalmente in senso più ampio possibile questo webinar è un'occasione di questo tipo la cultura dell'open source e come affrontare l'open source e come interpretare le linee guida da parte delle pubbliche amministrazioni e in più in effetti ma secondo me è assolutamente molto importante il discorso del incentivare le amministrazioni a fare community fra di loro per poter gestire il software noi chiaramente il supporto lo diamo in tutte e tre le fasi che sono quella dell'acquisizione quella dello sviluppo e quella del riuso facciamo anche scouting delle soluzioni a riuso sviluppo e manutenzione di strumenti kit e di tool e naturalmente cerchiamo di avere dei feedback che in qualche caso già lo abbiamo avuto da parte delle altre pubbliche amministrazioni perché no per rinnovare le linee guida stesse primo tool e primo tool è quello appunto della valutazione comparativa vanno parlato della valutazione comparativa come il momento fondante per poter a questo punto individuare la soluzione open source più adatta alle proprie esigenze ecco più adatta alle proprie esigenze come vi ha già ben spiegato Daniela il primo punto il primo step di un processo decisionale riguardante la scelta di una fornitura software è naturalmente l'indicazione la consapevolezza di cosa realmente ci occorre quindi una definizione di un documento che è il documento un po' delle esigenze si parla di potremmo parlare di requisiti funzionali come potremmo parlare di documenti abbastanza più generali certamente requisiti funzionali che in qualche maniera devono essere comparati con il software a riuso ovvero sotto licenza aperta che è a disposizione dell'amministrazione e di cui è titolare una pubblica amministrazione perché il primo passaggio è quello chiaramente di confrontarsi con software di cui è titolare una pubblica amministrazione e che è sotto licenza aperta noi che cosa andiamo a fare qui sono tutta una serie di slide che arrivano una dopo l'altra che danno soltanto degli flash poi ad un certo punto se vogliamo potremmo anche in un momento successivo creare un'occasione in cui potremmo fare un caso d'uso su come viene utilizzato realmente dal vivo quindi la valutazione comparativa considerare che la valutazione comparativa si basa essenzialmente su su tre aspetti uno che è quello chiaramente della coerenza con le indicazioni presenti nel CAD e nelle linee guida in questo caso l'interoperabilità la protezione dei dati personali la sicurezza l'accessibilità quindi sto parlando che uno dei primi momenti di valutazione del software è se questo software possa in qualche maniera essere adeguato alle linee guida che chiaramente sono in quel momento vigenti un secondo momento è quello della valutazione dei requisiti funzionali e non e qui mi soffermo il concetto di requisito funzionale forse tutto sommato è abbastanza già dovrebbe essere nel quotidiano e nell'esperienza di tutti noi quando parliamo di requisiti non funzionali stiamo parlando di quella descrizione di ambiti stiamo parlando di una descrizione di situazioni particolari che possono essere chiaramente generate da vi faccio un esempio immaginiamo di essere in una situazione nei quali i requisiti funzionali sono afferenti chiaramente alle esigenze ma abbiamo tutta una serie di necessità e considerazioni considerate per quanto riguarda non so le competenze di coloro che devono chiaramente utilizzare questo software oppure a chi questo software è destinato ci sono quindi requisiti che non sono soltanto quelli delle funzioni che devono essere prodotte dal software ma anche da un ambito che a questo punto possiamo coinvolgere come vedete in questo caso abbiamo la possibilità di inserire i requisiti funzionali che naturalmente fanno riferimento anche alle esigenze ma nelle esigenze ci potrebbero anche essere i requisiti non funzionali come vedete nella colonna B se riuscite a vedere c'è un concetto di peso naturalmente ognuno il tool è fatto in maniera tale che i vari pesi quindi la varia importanza da dare a quel requisito funzionale piuttosto che un altro da dare chiaramente esclusi quelli naturalmente obbligatori che sono quelli degli aspetti della coerenza è chiaramente fatto in maniera tale che sia indicato direttamente dall'amministrazione quindi l'amministrazione si trova ad affrontare subito due aspetti il primo quello appunto delle esigenze il secondo quale peso dare ai requisiti per poter individuare quindi il giusto prodotto all'interno della valutazione comparativa anche da questo punto di vista anche in queste semplici operazioni in effetti come centro di competenza possiamo tranquillamente dare un minimo e anche un massimo perché no di supporto altro momento della valutazione comparativa è l'assenza comunque la presenza di manutentori del software sia sul mercato oppure perché no dati dati anche da altre pubbliche amministrazioni qui c'è un caso che mi porta poi dopo a rispondere a una domanda che ho visto considerate che per esempio ci sono dei software che sono messi a disposizione del Consiglio della ricerca e il Consiglio della ricerca non solo mette a disposizione il software ma spesso e volentieri in almeno un paio di occasioni si presenta praticamente come manutentore stesso e diciamo anche con dei tempi di risposta non da poco perché so che danno risposta intorno alle 24 48 ore che in qualche altra occasione i manutentori di software privati non rispondono con questa prontezza supporto installazione e personalizzazione quindi se ci sono degli accordi sia con pubbliche amministrazioni sia con soggetti privati per poter dare supporto all'installazione della personalizzazione anche questo ha un peso nella scelta di un software le dipendenze e questo è un altro punto estremamente importante quanto il software messo a riuso è dipendente da un software proprietario quanto invece è dipendente da un software open source è chiaro che è completamente diverso insomma l'approccio che vi posso banalmente se per esempio c'è un software che dipende da un content management da un CMS proprietario certamente avrà sicuramente dei carichi anche sul TCO quindi sul total cost ownership dal punto di vista del costo della licenza a differenza invece di una dipendenza da un software open source come potrebbe essere un CMS assolutamente assolutamente open source le competenze come vi dicevo prima anche questa è una valutazione da fare se ci sono all'interno della PA delle competenze riguardanti per esempio i linguaggi utilizzati all'interno all'interno di quel software altra fatto molto importante il numero di PA che utilizzano il software le PA che utilizzano il software noi stimoliamo tantissimo che quando si raggiunge già due tre PA che dovessero utilizzare lo stesso software che a questo punto possono in qualche maniera creare quello che poi nel mondo open source è assolutamente all'ordine del giorno quindi la creazione di community di PA che possono dividere le spese la vitalità la vitalità in tutti quanti i repository pubblici di tab in testa voi trovate chiaramente un grafico che definisce la vitalità cioè cosa significa se questo software è stato aggiornato negli ultimi tre anni se quanti contributi ha avuto sempre negli ultimi anni e quante release sono uscite fuori dal software su questo software negli ultimi tre anni stessi e poi per finire ma come vedete è ultima ma a questo punto non è più predominante come per esempio non era in alcune situazioni del passato la stima delle voci di costo del TCO divise con la classica divisione CAPEX e OPEX volevo subito passare a questo punto al discorso dell'open source nel piano triennale allora al di là di tutto i principi guida nel piano triennale sono quelli che a quel punto il software di cui è titolare una pubblica amministrazione dobbiamo cominciare a individuarlo come un patrimonio informativo della pubblica amministrazione ma quando parlo di patrimonio non è soltanto un patrimonio da un punto di vista teorico e casomai politico ma è veramente un patrimonio dal punto di vista proprio anche del bilancio patrimoniale di una pubblica amministrazione quindi questo è anche un fatto assolutamente importante e dal momento che diventa un patrimonio della pubblica amministrazione e considerando le pubbliche amministrazioni come facenti parte tutti della stessa holding stato a questo punto è chiaro che il riuso fatto utilizzando il concetto di licenza aperta di software libero è sicuramente la maniera migliore per a questo punto valorizzare questo patrimonio e perché no a questo punto renderlo a questo punto maggiormente aumentare nello stesso valore naturalmente il discorso del codice aperto come vi ho detto è sicuramente la soluzione migliore c'è un capitolo 8 del piano triennale che ci tocca direttamente da vicino è che quello che abbiamo riportato quella frase chiave che abbiamo riportato lì a destra è ovvero che governare la trasformazione digitale secondo e qui parliamo del rapporto tra le amministrazioni centrali che di solito hanno una funzione regolatoria oltre che legislativa e casomai anche finanziaria e i territori quindi sto parlando di regioni e enti locali e creare intorno alla cultura del software libero un modello federato un modello costruito da un polo nazionale che sarebbe appunto Agid e il centro di competenza regionali nel riuso open source e i nodi interiori di competenza che sono praticamente delle strutture gestite da enti e organismi aventi chiaramente analoghe conoscenze ed esperienze sull'argomento in questione nel nostro caso appunto l'open source è una modalità secondo noi decisiva per poter realmente accelerare sulla trasformazione digitale e secondo noi avrà anche grazie a questa probabilmente ci sono dei progetti PNR che potrebbero avere un indirizzo più veloce e soprattutto più condiviso quindi una governa multivello che integri finalmente la dimensione centrale e la dimensione locale considerate che in questo momento sono in fase di realizzazione di definizione un regolamento per quanto riguarda il primo ambito da inserire nel nostro territorio di competenza che è appunto quello del software libero e dell'open source che dovrebbe in effetti con un bando che dovrebbe uscire sicuramente entro questo mese che dovrebbe avere quindi come obiettivo quello di chiamare di dare la possibilità alle regioni e casomai anche ad aggregazioni locali come possono essere le aree metropolitane dei nodi di competenza che possono interfacciarsi con il centro di competenza riuso open source sull'argomento appunto riuso e open source questi sarebbero gli ambiti di collaborazione di questo progetto che ha essenzialmente due aspetti da una parte è chiaramente tematico estremamente specialistico e tematico perché stiamo parlando dell'argomento di cui stiamo trattando questo webinar e dall'altra parte però affronta la parte diciamo così territoriale cioè la possibilità che ci siano comunque delle entità per esempio le regioni e perché no l'area metropolitana di creare chiaramente anche nell'ambito dell'utilizzo del software libero open source delle community e questo è l'obiettivo veramente finale e prioritario che abbiamo con questo ambito di collaborazione che non solo chiaramente possono gestire il software ma possono anche fare un'esperienza tale che questa esperienza possa essere riportata a livello centrale e perché no anche indirizzare aggiornamenti delle regole e delle linee guida che si definiscono a livello centrale io qui chiudo cercando a questo punto di accelerare i tempi perché mi sembra il caso a questo punto di affrontare il discorso delle domande se i tutor sono d'accordo per esempio il discorso che mi fa Remo Pulcini quando dice vorrei sapere esempi di riuso di software open source perché nella mia vita professionale ho assistito solo ad amministrazioni che comprano software proprietario eccetera eccetera beh secondo me ce ne sono almeno tre in questo momento io ho tre esempi di developer sitali il primo esempio che abbiamo già accennato ed è il discorso della soluzione della consignanza di ricerca che gestisce bandi di concorso è splendida la usiamo anche noi in Agid ecco perché so cosa significa avere il CNR a fianco per quanto riguarda il supporto il supporto tecnico è veramente è veramente splendida e soprattutto c'è una vitalità estremamente importante perché il CNR è anche stimolato chiaramente dalle amministrazioni che lo utilizza lo utilizza anche la presidenza del consiglio di ministra all'interno specificatamente il dipartimento della funzione pubblica credo che lo utilizzi pure un consiglio regionale non mi ricordo non mi ricordo chi l'istituto superiore di sanità guarda caso l'istituto superiore di sanità utilizza lo stesso software il consiglio nazionale ricerche questa per esempio è una maniera per rendere assolutamente appetibile e a questo punto rendere ancora più vitale un'esperienza come quella del consiglio nazionale ricerche c'è un'altra due a questo punto c'è una interessantissima che guarda caso viene dal territorio quindi non è un'amministrazione centrale che in qualche maniera dona qualcosa alle amministrazioni territoriali ma è il progetto SISO SIGES progetto SISO SIGES che è un sistema di gestione delle funzioni sociali che hanno le amministrazioni locali che in questo momento è gestito da 13 amministrazioni con un esempio molto interessante come quello che un progetto nato in una regione piccola tutto sommato che non fa nemmeno un milione di abitanti che ha circa un'ottantina di comuni ha visto chiaramente il gradimento di questa soluzione e l'arricchimento di funzioni di questa soluzione che a questo punto si è ancora più arricchita grazie a una collaborazione col comune di Roma che guarda caso sta riusando questa soluzione e un terzo esempio abbastanza interessante questo di vecchia data quello chiaramente di P3 P3 è ormai un software con una certa età che continua comunque ad aggiornarsi che chiaramente è un sistema di gestione documentale è un sistema di gestione documentale che in questo momento è utilizzato da centinaia di amministrazioni locali essenzialmente naturalmente della provincia di Trento che chiaramente a quel punto ha in qualche maniera deciso che P3 dovesse essere il sistema di gestione documentale di riferimento della provincia di Trento ma in questo momento ha utilizzato tantissime altre amministrazioni e probabilmente P3 sarà insieme spero anche con quello del CNR potrebbe diventare uno dei primi esempi di comuni con altre amministrazioni le quali compartecipano non soltanto alle spese ma anche alle scelte alle scelte delle nuove funzioni delle nuove versioni da tirar fuori dal progetto dal progetto stesso il discorso di Michele Fiaschi nel caso di un software in uso di una PA funzionante sviluppato sì la risposta secondo me è sì stiamo naturalmente parlando di una reingenializzazione la reingenializzazione naturalmente prevede a questo punto in pratica una ricostruzione ex novo del codice secondo noi anche in questo caso e siamo a livello dell'ex novo stiamo a livello chiaramente di un software che rimane di cui rimane la titolarità della pubblica amministrazione e su questo stiamo molto attenti perché molte pubbliche amministrazioni si sono scordate l'articolo 11 del codice sul diritto d'autore nel quale è previsto che le amministrazioni esplicitamente nei loro contratti debbano chiaramente definire che la titolarità del software rimane a loro e quindi sì secondo me anche lì quella è un'ottima occasione una grande occasione per poter a questo punto creare un repository con il codice sorgente metterci la licenza giusta metterla a riuso perché diventa un obbligo a questo punto secondo il 68 e il 69 di mettere in riuso il software e collegarlo con con developers italia naturalmente anche in questo caso qui mi sento a questo punto tranquillamente di poterlo dire anche al posto insomma di Leonardo fa vario anche in questa occasione operazioni di questo genere se serve vediamo supporto anche dal punto di vista semplicemente di suggerimenti tecnici di come organizzare un repository non è una cosa banale un'organizzazione corretta nel repository dà possibilità a questo punto di intervenire con dei tool anche per quanto riguarda l'analisi di sicurezza del tool stesso quindi è molto importante a questo punto che se vi capita a questo punto insomma una mail ai gestori di livello versi italia per farsi dare una mano sull'organizzazione dei repository potrebbe essere molto ben accetta mi sembra non lo so se ci sono altre domande da questo punto di vista ah sì quello delle sanzioni mi auguro di non di non di non allora sanzioni beh sanzioni dirette come potrebbero essere quelle indicate dal nuovo decreto legge sulla semplificazione che dovremmo emanare noi di Agid spero proprio di non di non arrivare a questo punto però prima ancora del decreto legge c'è comunque una considerazione da fare qui stiamo parlando di patrimonio della pubblica amministrazione stiamo parlando chiaramente di un'indicazione molto precisa per quanto riguarda quindi ambiti che riguardano comunque la gestione del patrimonio di un patrimonio pubblico quindi secondo me andiamo verso indicazioni che potrebbero anche essere c'è un caso in questo momento in una in un'amministrazione nella quale qualcuno sta alzando il braccio dicendo guarda che dal momento che non usi che hai un po' deragliato dalle indicazioni delle linee guida probabilmente potresti avere problemi dal punto di vista della gestione corretta del bene pubblico chiedo perché nessun dirigente economista giurista sceglierà mai volontariamente di pubblicare i soggetti non ha le competenze in prima persona beh su questo sono d'accordo che non ci sono non ci sono le competenze il problema però a quel punto che vanno fatti i contratti in una certa maniera cioè soprattutto nell'ex novo mi sembra assolutamente banale e su questo anche potremo anche crearvi dei modelli a questo punto di frasi di indicazioni di articoli addirittura da inserire all'interno dei contratti che diano caso mai supporto al dirigente economista barra giurista per fare correttamente un rapporto su chi sta da zero costruendo un software per la pubblica amministrazione però io vi ricordo comunque che in questo momento stiamo comunque in una situazione nella quale un'occhiata è veramente come per esempio per la faccenda della piattaforma sui bandi di concorsi fatta da CNR io un'occhiata veramente a Develoversitalia comincerei a darla perché c'è un'altra cosa che ha detto Leonardo prima che secondo me è estremamente importante grazie all'open source abbiamo un'occasione più unica che rara per migliorare la qualità del software migliorare la qualità del software significa anche lavorare bene all'interno delle nostre pubbliche amministrazioni e quindi e vuol dire tutta una serie di considerazioni e migliorare bene a questo punto la qualità del software però il software deve essere comunque aperto c'è il 69 spinge tantissimo perché il software sia di titolare della pubblica amministrazione queste due combinazioni la titolare della pubblica amministrazione quindi la valorizzazione del patrimonio di software della pubblica amministrazione agganciato al discorso che tramite una gestione corretta del codice sorgente andiamo verso una migliore qualità del prodotto beh a questo punto mi pare che ci siano tutte quante le prospettive per potersi indirizzare verso chiaramente quanto dicono le linee guida e quindi noi in questo momento soprattutto vi vorremmo lasciare come centro di competenza con una chiara offerta ad un certo punto utilizzateci probabilmente ci stripperete come si dice a Roma però almeno capiremo ancora meglio quali sono praticamente le esigenze che arrivano dal territorio e soprattutto cercheremo nei prossimi settimane nei prossimi mesi di lanciare definitivamente il progetto nodi di competenza perché a quel punto saremo sicuri di avere anche sul territorio un soggetto che in qualche maniera anche lì sul territorio possa rispondere alle esigenze che avete chiaramente per esempio illustrato nelle domande che avete fatto oggi pomeriggio io a questo punto se non c'è altro ancora c'è un approccio non so se ci sono altre domande eh sì sono assolutamente d'accordo su quella della rete sì quando parliamo di community parliamo proprio di questo che le le amministrazioni facciano rete perché il lock in sta dietro l'angolo sta dietro l'angolo e sta dietro l'angolo in qualsiasi forma è chiaro che una community di pubblica amministrazioni è una community che a quel punto si difende molto meglio e soprattutto perché si difende molto meglio perché mette a fattor comune le competenze c'è questa grande esigenza soprattutto sui territori di mettere a fattor comune le competenze ma qui andremo su un altro su un altro ambito che è quello delle competenze e sicuramente è un quello dell'open source può essere la cultura che c'è dietro tutto questo può essere invece proprio un incentivo a poter a questo punto condividere le competenze Guido tra i due minuti ancora c'è Luca Leonardo scorcio che dice in una delle slide ho letto di sfuggita ontologie della PIA so cos'è un'ontologia in principio è possibile avere rapidamente qualche dettaglio in più non lo so dove l'ha trovata l'ontologia qui stiamo parlando praticamente di semantica cioè non so in questo momento come confluire dentro al concetto di sì le ontologie sì qui stiamo parlando in effetti stiamo parlando di standard di standard essenzialmente alla fine una cultura open source sta pure a definire chiaramente la possibilità di creare degli standard è un qualcosa che stiamo sperimentando anche su altri progetti e quindi se ad un certo punto il codice ma soprattutto gli artefatti che vengono sviluppati insieme col codice possono a questo punto definire delle ontologie come delle ontologie non più intoperabili ma acquisite e condivise a questo punto anche lì potrebbe essere un momento importante dal punto di vista degli sviluppi ma questo ci porterebbe decisamente in un ambito abbastanza cioè della serie per esempio interessante che si sta sviluppando in altri in altri ambiti di tutto ciò che riguarda per esempio la standardizzazione di un'istanza considerate che in questo momento non soltanto l'API ma ci sono una serie di settori come quello degli sportelli e l'attività produttive che è iniziato c'è stato un inizio di discorso riguardante la standardizzazione lo stesso per esempio CNR per esempio c'è tutto un discorso sull'ontologia riguardante l'ambito sanitario considerate che in questo momento in ambito sanitario abbiamo 21 regioni che ognuna va per conto suo spesso e volentieri e quindi si rischia poi quello che succede in questi tempi col covid che rischiamo chiaramente di non riuscire a parlare con lo stesso linguaggio e quindi non fare reportistiche reportistiche raffinate beh per esempio il discorso il discorso della standardizzazione delle terminologie anche quello è un discorso open source a tutti gli effetti considerate che l'open source non è solo codice sorgente librerie API il codice sorgente all'interno della pubblica l'open source e l'interno pubblico amministrazione sono anche gli artefatti sono anche trovare chiaramente delle terminologie comuni sono anche trovare degli standard in comune quello poi sarebbe veramente da farci praticamente una puntata a sé stante perché è uno dei momenti probabilmente sarà uno dei momenti anche quello uno dei momenti decisivi riguardanti l'attuazione dei progetti PNRR sì giustamente Giovanni ok mi pare che le domande siano sì Giovanni ha fatto questa precisazione che avevi detto anche tu adesso la usano sul DAF lo so a me mi interessa soprattutto quella parte che riguarda chiaramente la definizione di termini standard soprattutto all'interno chiaramente per esempio della definizione dei dati ci abbiamo chiaramente istanze che hanno dei campi all'interno loro che non sono interoperabili l'uno con l'altro cioè abbiamo un sacco di problemi di questo tipo è uno dei temi che l'open source potrebbe anche lì affrontare ok allora io ti ringrazio noi abbiamo finito abbiamo proprio esaurito il tempo quindi ringrazio i nostri esperti di oggi Leonardo Favario Daniera Pasquale Pasquale Guido Pera e vi saluto e vi ricordo che l'ultimo appuntamento che riguarderà sempre l'erogazione dei servizi pubblici utilizzando diciamo gli applicativi open source quindi come si usano come si accede alla community di scambio di esperienze eccetera eccetera è per il 13 luglio quindi noi chiudiamo il prossimo 13 luglio io ringrazio ancora tantissimo tutti i partecipanti e i nostri relatori e ci vediamo martedì prossimo grazie mille salve a tutti grazie mille grazie mille grazie mille